E' una mafia che già decidi anni fa era la più pericolosa nel mondo, una tra le più pericolose. Le prime vittime della mafia nigeriana sono gli stessi membri della loro comunità. Questa è una tratta di giovani donne appetibili nel mercato del sesso. La prostituzione alimenta il mercato alla droga, la droga alimenta il mercato alla prostituzione. Siamo partiti da una denuncia di una ragazza. Un'indagine nata per un reato di sfruttamento della prostituzione si è poi trasformata in una delle più importanti indagini sulla mafia nigeriana in Italia. La tensione era particolarmente alta. Assomiglia a quella italiana, la mafia nigeriana. La cronaca italiana ci riporta ad una grande operazione della polizia contro la mafia nigeriana. 20 condanni a Torino al processo alla cosiddetta mafia nigeriana. Noi finché penseremo che questi sono degli africani sottosviluppati di serie B che vengono qua a fare il vudio e sgozzano le galline, non abbiamo capito proprio niente di niente. La città è stata una cosa che si fuori da un paese di loro, si fai a te in un giorno, in un giorno, in un giorno, a te in un giorno. Ho! 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 If I leave, I leave.